Buongiorno a tutti e bentornati. In questo video vi presentiamo l'arcobaleno. Il fenomeno dell'arcobaleno è la possibilità di poter osservare tutti i colori che formano lo spettro del visibile. Qui vediamo un prisma e vediamo tramite il fenomeno della rifrazione i colori che compongono l'arcobaleno. L'arcobaleno avviene quando abbiamo delle piccole gocce di acqua in sospensione e la presenza della luce solare. La luce entra in queste goccioline e prima c'è un primo fenomeno di rifrazione, quindi scomposizione della luce. Poi abbiamo un fenomeno di riflessione e poi ancora un fenomeno di rifrazione e a questo punto noi possiamo osservare l'arcobaleno. Definiamo invece luce, quella porzione dello spettro delle onde elettromagnetiche che vanno da circa 400 nanometri a 700 nanometri e grazie all'occhio possiamo vedere. Grazie per l'attenzione e se volete iscrivetevi al nostro canale.